le avventure di pinocchio di carlo colloti letto da libri in pillole capitolo 13 l'osteria del gambero rosso cammina 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 alla fine sul far della sera arrivarono stanchi morti all'osteria del gambero rosso fermiamoci un po qui disse la volpe tanto per mangiare un boccone per riposarci qualche ora a mezzanotte poi ripartiremo per essere domani all'alba nel campo dei miracoli entrati nell'osteria si posero tutte e tre a tavola ma nessuno di loro aveva appetito il povero gatto sentendosi gravemente indisposto di stomaco non poté mangiare altro che 35 triglie con salsa di pomodoro e quattro porzioni di trippa alla parmigiana e perché la trippa non gli pareva condita abbastanza si rifece tre volte a chiedere il burro e il formaggio grattato la volpe avrebbe spilluzzicato volentieri qualcosa anche lei ma siccome il medico le aveva ordinato una grandissima dieta così dove contentarsi di una semplice lepre dolce e forte con un leggerissimo contorno di pollastre ingrassate e di galletti di primo canto dopo la lepre si fece portare per tornagusto un cibreino di pernici di starne di conigli di ranocchi di lucertole ed uva paradisa e poi non volle altro aveva tanta nausea per il cibo diceva lei che non poteva accostarsi nulla alla bocca quello che mangiò meno di tutti fu pinocchio chiese uno spicchio di noce e un cantuccino di pane e lasciò nel piatto ogni cosa il povero figliuolo col pensiero sempre fisso al campo dei miracoli aveva preso un'indigestione anticipata di monete d'oro quando ebbero cenato la volpe disse all'oste datemi due buone camere una per il signor pinocchio un'altra per me e il mio compagno prima di ripartire stiaceremo un sonnellino ricordatevi però che a mezzanotte vogliamo essere svegliati per continuare il nostro viaggio sì signore rispose l'oste e strizzò l'occhio alla volpe e al gatto come per dire ho mangiato la foglia e ci siamo intesi appena che pinocchio fu entrato nel letto si addormentò a colpo e principiò a sognare e sognando gli pareva di essere in mezzo a un campo e questo campo era pieno di arboscelli carichi di grappoli e questi grappoli erano carichi di zecchini d'oro che dondolandosi mossi dal vento facevano zin 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 quasi volessero dire chi ci vuole venga a prenderci ma quando pinocchio fu sul più bello quando cioè allungò la mano per prendere a manciate tutte quelle belle monete e a mettersele in tasca si trovò svegliato all'improvviso da tre violentissimi colpi dati nella porta di camera era l'oste che veniva a dirgli che la mezzanotte era suonata e i miei compagni sono pronti gli domandò il burattino altro che pronti son partiti due ore fa perché mai tanta fretta perché il gatto ha ricevuto un'imbasciata che il suo gattino maggiore malato di geloni ai piedi stava in pericolo di vita e la cena l'hanno pagata che vi pare quelle lì son persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla signoria vostra peccato quest'affronto mi avrebbe fatto tanto piacere disse pinocchio grattandosi il capo poi domandò e dove hanno detto di aspettarmi quei buoni amici al campo dei miracoli domattina allo spuntare del giorno pinocchio pagò uno zecchino per la cena sua e per quella dei suoi compagni e dopo partì ma si può dire che partisse a tastoni perché fuori dell'osteria c'era un buio così buio che non ci si vedeva da qui a lì nella campagna all'intorno non si sentiva alitare una foglia solamente alcuni uccellacci notturni traversando la strada da una siepe all'altra venivano a sbattere le ali sul naso di pinocchio il quale facendo un salto indietro per la paura gridava chi va là e l'eco delle colline circostanti ripeteva in lontananza chi va là chi va là chi va là chi va là intanto mentre camminava vide sul tronco di un albero un piccolo animaletto che riluceva di una luce pallida e opaca come un lumino da notte dentro una lampada di porcellana trasparente chi sei gli domandò pinocchio sono l'ombra del grillo parlante rispose l'animaletto con una vocina fioca fioca che pareva venisse dal mondo di là che vuoi da me disse il burattino voglio darti un consiglio ritorna indietro e porta i quattro zecchini che ti sono rimasti al tuo povero babbo che piange si dispera per non averti più feduto domani il mio babbo sarà un gran signore perché questi quattro zecchini diventeranno duemila non ti fidare ragazzo mio di quelli che promettono di farti ricco dalla mattina alla sera per il solito sono matti o imbroglioni dai retta a me ritorna indietro e io invece voglio andare avanti l'ora è tarda voglio andare avanti la nottata è scura voglio andare avanti la strada è pericolosa voglio andare avanti ricordati che i ragazzi che vogliono fare di loro capriccio e a modo loro prima o poi se ne pentono le solite storie buonanotte grillo buonanotte pinocchio e che il cielo ti salvi dalla guazza e dagli assassini appena dette queste ultime parole il grillo parlante si spense a un tratto come si spegne un lume soffiandoci sopra e la strada rimase più buia di prima